ciao ragazzi benvenuti in questo video sono sommersa dai pacchi perché non so se avete letto tutti la nuova notizia ma sto prendo una selleria online quindi abbiamo ho fatto il primo ordine da la misel penso la conoscete perché è ovunque e niente sono arrivati oggi non vedo l'idea sono tantissime cose di tutto di più probabilmente non ci saranno tutti in questo video ovviamente vi lascio il link in descrizione nella pagina instagram perché il sito ormai non è ancora aperto lo saranno molto breve e iniziamo con una forbice iniziamo con questo piccoletto va bene whisky va bene ok ok allora ovviamente dimenticavo iscrivetevi al canale ok qui abbiamo le prime cose se non sbaglio sono ok le bende elastiche whisky elettroniti oh no 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 licking penso sia sale questo penso non mi ricordo neanche cosa ho detto e questo è il balsamo dell'ucoio ok ok non sarò lì a spiegarvi ognuno delle cose perché penso siano tipo 95 articoli qualcosa di simile quindi stiamo lì ok whisky è impazzita vabbè comunque continuiamo con la scatola media ecco l'apriamo oddio non ci sto più inizio non ti dacci più lo piego oddio e queste cose sono tutte mie ok arriva il pezzo forte whisky ce la faccio più vabbè questo lo tiriamo fuori vero? voglio vederlo bene sì però vabbè quanto è bello cioè io lo voglio non pretendo cioè se non volete questa cosa siete pazzi bellissimo ma poi il supermodo oh mio dio che finalmente finalmente fanno sottosella con il sotto scuro e non bianco che dopo due peli è nero questo tipo bello e volevo aggiungere su questo prodotto in particolare che mi ha colpito subito non solo perché è bellissimo semplicemente ma è stato prodotto con prodotti riciclati fibra di bambù ed ha mille proprietà tipo è antibatterico antistatico insomma può solo far bene sia voi perché gli occhi è bellissimo che il vostro cavallo allora oltre a quello giallo già vedo sotto quelli di altri colore perché non l'ho preso solo giallo però prima vedo questo salvagarrese in spugna credo o in schiuma penso in schiuma eh se spugna è proprio in schiuma ok e poi eccoli mamma mia quindi c'è il giallo questo fucsia che è un fucsia che a me non piace il fucsia ma il vostro fucsia è bellissimo poi ce l'abbiamo blu e verde di solito io preferisco un altro tipo di verde ma quanto è elegante è bellissimo vabbè sono tutti i miei mi salmi vabbè cioè questo per me ha vinto tutto mamma ok penso che non lo potrò mai mettere sullo stallone però è troppo bello e penso sia anche questo prodotto nello stesso modo perché vedo che anche questo ha scritto qua che si è prodotto anche questo con materiali ricicati la parte che è super luccitoso e qua dentro c'è poca luce quindi voglio immaginare al sole che cosa fa cioè è meraviglioso poi come vedete è sagomato quindi è per cavalli con un gran resi leggermente più pronunciato e proprio detto basta questo diops dentro? ma non è diops non è vero e dentro anche questo è scuro bellissimo finalmente qualche azienda ci è arrivata che deve farli scuri dentro e non bianchi che dopo due giorni sono da buttare come dicevo frusta con il manico in gel ovviamente tutti i prodotti che vediamo adesso li troverete sul sito con le loro immagini, le loro descrizioni non sto qui a parlarvene per sé qualunque poi simili alla frusta lunga abbiamo i frustini da salto invece che sono nei colori verde sì verde lime, arancione, rosa e se non sbaglio c'era anche il nero infatti è qua eccolo poi abbiamo un'altra frusta lunga questa invece ha il manico in pelle lo faccio vedere in breve molto bella, bellissima e poi anche di un materiale diverso posso vederlo ma io wow molto bella e simile la impugnatura la impugnatura invece è troppo bella simile alla frusta lunga abbiamo frustini corti da salto uno nero e argento uno marrone e oro che è elegantissimo bellissimo wow poi questa è la rete per il piano se lo sbaglio fascione da lavoro con l'agnellino mi sembra si, nero anche questo devo dire che sono fatte molto bene vabbè non sarà da qui per la testa non è al momento va bene lei si diverte poi abbiamo capezze parelli una blu e una rossa non l'apro perché se no non riuscirò mai a rimessere la posta già non so come si lega non l'ho mai usata non è vero in passeggiata ti ricordi l'hai usata? va bene poi poi pastorale gagnellino bellissimi non lo so già perché sono belli di rimettere il cavallo comunque con la pelliccia qua sono morbidissimi vabbè poi le cuffiette la cuffietta che sono dei primi sottosella che vi ho fatto vedere infatti hanno il ferro di cavallo che bello a me piacciono quelle che hanno orecchie diverse dal corso della cuffietta troppo bello poi ovviamente ci sono anche degli altri colori seguendo abbiamo queste sottofasce che io le ho ordinate e devo essere sincera come sottofasce generiche e invece sono dieci volte meglio di quello che pensavo cioè a parte che hanno una consistenza fantastica sembra di toccare un cuscino ma il morifone comunque sono se non sbaglio ad asciugatura rapida che tengono il fresco, il calore insomma super tecnologiche bellissime e costano poco abbiamo blu, nere ok ok poi viva il mio diamantino a me questi sono miei, basta per questo set ovvio del set del sottosella giallo quanto sono belli? sono bellissimi puoi tirare fuori voglio toccare mamma mia ma sono troppo belli sono cuscini dentro tutto bellissimo wow qua sto pietro vuoi vedere un po' meglio? a pietro ci sono, cioè sotto ci sono ah sì, giusto ovviamente è un set di stintiere e erano che questo video è cominciato con una cosa felice sta trasformandolo in una cosa sì, sono disperata perché voglio tutto non posso vabbè trovo comunque altre sottofasce e poni però troppo belle c'è ma vogliamo parlarne? ma a parte che la busticca puoi tenerti la busticca no, non è vero queste sono meravigliose futuro acquirente avrai anche sono meravigliose cioè poi stanno bene su questo inscalato sì, non si vede un grande bene dovresti tirare fuori ecco ecco mamma mia cioè sono bellissime ma poi è proprio un materiale infatti fantastico posso vederle meglio? secondo aspetta cioè sono troppo eleganti belle 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 le volte tutte e ci sono anche di quest'altro colore questo è grigio sai rimetterle a posto? no infatti sono preoccupata aspetta voilà pionda ma ok quindi ci sono grigio sì questo blu verde petro che colore è? blu scuro sì loro lo indicavano come blu c'è scritto? no è tipo un blu comunque sì è tipo un è tipo quel colore che va un sacco per adesso ecco quello comunque cioè anche questo colore è spaziale ah poi hanno anche le prese d'aria poi ne abbiamo anche beige che belle che sono questo era il colore che mi piaceva di più vedi perché hanno questo perfilo marrone che tu dici sempre che le stinchiere marroni fanno cagare no allora quelle marrone scuro non mi convincono questo invece però questo è un buon compromesso sì poi le abbiamo da pony credo sì rosa quelle un pochino più semplici con l'apertura a strappo che sono da pony tra l'altro queste sì comunque è un rosa bellissimo lo userai anch'io quindi voglio dire pony non pony quello che volete e abbiamo anche colore non ci vedo nere sempre pony cavallo un e due quante cose e poi vabbè elasticini bianchi neri ok altri pastorali questi sono semplici senza l'agnolino poi numero di testiera per i concorsi e vabbè un pezzini in metallo e qualche metta piedi non sono troppo evidente io ce l'ho perso per il tuo ho perso la forbice via via whisky whisky dov'è la forbice? no dai whisky ehi che? amore io sono seria qua ecco vabbè whisky è veramente rotto ok oh finalmente abbiamo no il pezzo forte è tutto in realtà comunque i cap sono bellissimi ovviamente non starò qua ad aprirveli tutti perché sennò facciamo un macello ve ne aprirò uno o il resto li scoprirete online così mi metto anche un po' di altro comunque iniziamo dal resto abbiamo maschera anti mosche vi faccio vedere l'immagine perché io non so piegare le cose figuriamoci una maschera è troppo carina c'è rosa appunto ed è tipo il licra il licra il licra bravo poi speroni a tronchetto questi sono bellissimi sono molto semplici ma sono molto bellissimi poi una cucchietta del sottosella glitterato e poi non è rosa è proprio color champagne ed è bellissimo non è tamarro è elegante poi sempre la cucchietta nera perché è un po' più sano di mente insodio io la metterei giù ah la cucchietta no la maschera sì poi abbiamo i guanti che sono quelli beh sono guanti tipo da lavoro neoprene con l'interno di pelle sì esatto neoprene interno in ecopelle no ecopelle pelle sintetica un'altra delle maschere e poi abbiamo un sacco di altre cose ancora cuffietta che problema ho cuffietta altra maschera grigia bellissima mi sto appassionando il grigio poi vabbè cravatta da uomo da concorso in realtà ci sono altri milioni di cose altri speroni maschere agnellini cose più altre tre scatole forse quattro di là quindi acceleriamo i tempi vi faccio vedere un cap e poi ci salutiamo perché sennò siamo qua fino a domani mattina che è più bello secondo me che ho scelto ed è l'artemis in oro rosa questo in particolare come si apre comunque leggerissimo la scatola quindi sarà leggerissimo anche il cap già questa è una cosa ottima super leggero bellissima ovviamente la sua bustina ottimo perché non tutto ci prenderanno super incartato cosa mi sto sentendo in colpa da figlio guarda ora mi cade lo rompo molto bello molto bello bellissimo è che bello del tuo cuore molto più bello del tuo cuore comunque ha l'interno la fodera è intercambiabile quindi se attualmente c'è dentro la M questa penso sia la S comunque è in velluto ma non quel classico velluto dei cap tipo rasato è velluto corto molto più bello del velluto classico allora per il momento abbiamo finito qua ci aspetta un'altra oretta di spacchettamento a noi comunque mettiamo via queste cose prima che il gatto va bene immaginate e io vi ringrazio e vi ricordo che metterò giù il link in descrizione della selleria che non mi ho detto come si chiama che si chiama Contequestre Selleria e vi metto appunto il link del profilo instagram e quando ci sarà molto presto anche quello dello shop online vai oh mio dio è geniale prossimo video asmr comunque mi sono dimenticata con sta cazzata cosa è successo oh mio dio ah giusto cosa importantissima ho pensato inoltre di offrire sempre al primo acquisto il 15% di sconto su ogni tipo di ordine anche che ho ordinato una lunghina da 5 euro comunque e nulla spero che vi siano piaciute queste cose e se vi va fatemi sapere visto che sto aspettando anche Valdhausen è una marca che sicuramente non conoscete che è Appliqué o Applik Amsterdam ancora non ho capito come si pronuncia e se vi va aprirò i pacchi con voi quindi fatemelo sapere io vi saluto questo lo cancelliamo perché no mi sono bloccata cosa devo dire non mi ricordo ma devi salutare ah giusto io vi saluto vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e basta ciao